Particolarmente esposti al rischio di contagio e potenziali vettori del virus, sono i giornalisti che, nonostante l'emergenza in corso, continuano a lavorare, seppur con modalità e abitudini sensibilmente diverse. Può dunque accadere ciò che è successo a Emanuele Valeri, reporter e fotografo del litorale che collabora con varie testate locali e nazionali. È stato trovato un collega positivo al coronavirus. Ho deciso di isolarmi, di mettermi in quarantena. Ho iniziato ad accusare dei sintomi che erano sintomi lievi, come poi dopo mi classificherà l'ASLA e il 118 successivamente, ma che non sono comunque certificati, quindi io potrei essere positivo come potrei non esserlo. Tante le chiamate durante la quarantena, dall'ASLA al medico curante, dal 118 allo Spallanzani. Chiamo l'ASLA prima e all'ASLA mi rispondono dopo 40 minuti, riesco a prendere la linea e ho provato a spiegargli che comunque nel caso mio, ma come degli altri colleghi, potrebbero essere tantissimi i punti di contatto. Ma poi dopo mi è stato detto che sì, va bene, non hai sintomatologia accentuata, quindi da questo momento in poi per 14 giorni tu e i tuoi genitori siete, io vivo a casa con i miei, siete in quarantena. loro mi hanno detto se vuoi ti veniamo a prendere, ci ho spiegato anche in quel caso che ero giornalista, se vuoi ti veniamo a prendere, però poi è un po' tuo rischio e pericolo, nel senso che arrivi nella fase di prefiltraggio del pretriage, poi dopo di che lì diventa un calderone un po' generale. Il calderone, per stessa ammissione delle autorità sanitarie, è la promiscuità che si viene a creare nei locali dedicati al pretriage, tra pazienti sani, casi sospetti e contagi conclamati. Ora tu sei bene, sei uscito dalla quarantena. Sì, io sto bene, sono uscito dalla quarantena, però il mio punto di domanda è, io potrei essere affetto come non affetto da questa cosa, non lo saprò mai, io come tante altre persone da domani potrei tornare lì fuori a fare quello che ho sempre fatto e con rischi e pericolo non sapendo quali sono le mie reali condizioni. C'è poi da considerare che l'evoluzione del virus in molti casi è rapidissima, il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stato chiarissimo, dobbiamo fare i tamponi ai casi sospetti e quindi trattare con gli antivirali tutti quelli positivi, oggi le persone vengono lasciate a casa a svernare, quando la situazione precipita non resta che intubare chi sta male, i malati vengono curati troppo tardi e così non li salviamo, ha concluso Balzanelli.